quando iniziavo i percorsi di formazione con gli insegnanti fui molto colpito da quello che mi chiese una delle partecipanti ad un gruppo di una città vicino alla mia con un tono rotto dall'ansia dall'agitazione dalla preoccupazione mi chiese io vorrei capire per quale motivo i miei bambini sono tutti ansiosi beh è evidente che questa frase come potete immaginare suscitò l'idarità del gruppo ma quante volte accade che quando un nostro sentimento un nostro stato d'animo non lo conosciamo lo attribuiamo agli altri se questo accade viene meno il principio di renderci simpatici cosa vuol dire essere simpatici vuol dire sentire insieme viene dal greco siumpase in il pathos cioè sentire i sentimenti dell'altro condividerli con l'altro ma se il mio sentire è concentrato su un mio sentimento che appartiene a me e non lo riconosco è evidente che non riuscirò a rendermi simpatico con la conseguenza che rischio di diventare un insegnante inefficace e addirittura nei casi limite anche antipatico pur essendo bravissimo nella materia che conosco immagino che anche voi conosciate tanta gente che può definirsi un luminare della propria materia ma senza che abbia un metodo efficace di insegnamento il metodo efficace di insegnamento dunque è basato sul modo in cui una lezione viene posta sapendo che dal feedback degli allievi io insegnante posso ricevere il grado di gradimento perdonatemi il gioco di parole e di efficacia con cui io mi rapporto agli altri solo in questo modo è possibile valorizzare i diversi talenti sapendo che ognuno del grande sceglierà un percorso differente e che non per forza farà della storia il suo mestiere della matematica del suo mestiere o di qualunque altra materia la propria professione peraltro sempre i studi di gardner dimostrano che i voti ottenuti durante gli anni della scuola non sono affatto un indicatore del successo che si avrà nella vita con la collaborazione di altri docenti della facoltà di psicologia della Yale University potrà dimostrare che 40 anni dopo gli studenti usciti da Harvard sia quelli bravi che quelli meno bravi avevano un tenore di vita che poteva essere considerato di fatto simile il che vuol dire che occorre valorizzare un talento diverso rispetto all'apprendimento della disciplina ecco perché insistiamo sulla valorizzazione della dimensione emotiva della relazione d'aiuto in tutto questo aiutano i percorsi che io organizzo sul metodo autobiografico creativo con la tecnica della fiabbazione che cosa vuol dire per un adulto scrivere una fiaba c'era una volta vuol dire intanto scegliere immediatamente il protagonista chi è il protagonista qualunque personaggio ci venga in mente anche se in questo momento voi provaste ad immaginare un personaggio di fantasia che potrebbe essere il protagonista della vostra storia bene quel personaggio non nasce mai dal caso è sempre un personaggio che ha una fortissima valenza simbolica che soltanto voi potrete scegliere di decodificare se vi darete il tempo necessario per farlo allora attraverso un percorso con la tecnica della fiabbazione un insegnante un operatore partendo dal mondo immaginario del c'era una volta inizia a scrivere la propria fiaba in cui parla dell'antagonista chi è l'antagonista del protagonista quindi del personaggio principale parla di una difficoltà e di una risoluzione della difficoltà perché il canavaggio della fiaba classica ci spiega come oggi e come ci dice anche Vladimir prop la fiaba non vada considerata come uno strumento ludico per bambini perché è uno strumento e nasce come uno strumento pedagogico che fondamentalmente è un esorcismo cioè un portare fuori vedere da un vertice d'osservazione e riappropriarsi dei contenuti pedagogici che quell'insegnamento ci può dare ecco che l'antagonista che nell'accezione freudiana e la parte buia del protagonista la parte negata diventa l'altra faccia della medaglia della nostra personalità ed è proprio quella parte della personalità che viene fuori al di là di ogni nostra intenzione che viaggia con noi quando diamo una stretta di mano che viaggia con noi quando parliamo con gli altri quando interagiamo o quando facciamo il nostro mestiere di insegnanti e di operatori della relazione d'aiuto solo che non incontrare mai l'antagonista o rifiutarsi di trovare una mediazione con l'antagonista rischia di metterci nella situazione di giocarci le relazioni quelle personali e anche quelle educative noi infatti osserviamo e decodifichiamo il mondo dal vertice della nostra personalissima mappa di decodifica della realtà ma mentre applichiamo quella mappa se non consideriamo tutto ciò che c'è intorno e ci limitiamo invece a credere che quella mappa sia l'osservazione oggettiva della realtà commettiamo l'errore più grossolano che si possa commettere se non consideriamo infatti che tutto ciò che che abbiamo intorno viene decodificato con il sistema delle generalizzazioni delle cancellazioni delle deformazioni e se invece siamo convinti che ciò che noi sappiamo diciamo osserviamo comunichiamo ciò in base a cui ci relazioniamo sia la verità commettiamo l'errore più grave su cui si basano tutte le convinzioni limitanti che rendono inefficaci le relazioni ecco a cosa serve una fiamma a prendere consapevolezza di sé a fare un percorso all'interno della propria storia personale protetta dal gioco dei simboli e delle metafore che ognuno può con il tempo e la pazienza dipanare per trovare chiavi di soluzione soltanto per avere delle relazioni più gratificanti con gli altri e avere di conseguenza una vita più felice e se stiamo parlando nel mondo della scuola anche una maggior efficace una maggior presa sulla scuola resca. Il principio da cui parte un percorso di formazione che io svolgo in presenza ma che è anche disponibile in modalità online su piattaforme learning anche con l'abbigliamento di attività creative prese ad esempio da svolgere anche con le scuola resche quindi con le classi il concetto di base si fonda sugli studi di Vladimir Propp intorno alla morfologia della fiaba. Propp nei suoi studi dice che dopo aver analizzato l'intera letteratura occidentale delle fiabe che tutte le storie nascono dall'incrocio di 35 elementi fissi e ricorrenti. È impossibile dunque che si mettano in gioco questi 35 elementi all'interno della stessa storia tuttavia prendere in considerazione quelli principali protagonista, antagonista, difficoltà, viaggio e risoluzione della difficoltà già fornisce all'autore di quella storia le indicazioni sulle quali è necessario e opportuno riflettere. Ecco in questo modo la difficoltà che nel linguaggio simbolico della metafora è la difficoltà del protagonista nasconde un nodo della nostra stessa esistenza. Avere la possibilità di portare fuori questo nodo quindi creativamente di poterlo osservare attraverso la finzione del foglio di carta che raccoglie in quel momento quella storia permette di trasformare tutte queste informazioni da passato subito in storia. Ecco che cosa vuol dire acquisire consapevolezza. Sapere dalla base di cosa io parto per avere di me e del mondo che mi circonda l'idea che con il tempo, con la mia esperienza e con la mia formazione.